Miglionico sarà protagonista domenica 18 dicembre sul Re3 dalle ore 17 alle ore 19 della trasmissione il Kilimanjaro format con accadenza settimanale dedicato ai borghi più belli d'Italia. Miglionico è l'unico comune lucano partecipante al contest 2022 e gareggia per diventare il borgo dei borghi in questa annualità. Chiunque potrà prendere visione della puntata anche sul Replay e quindi sostenerla con voto telematico proprio sulla piattaforma della RAI. Le votazioni si terranno tra gennaio e febbraio 2023. C'è entusiasmo tra gli abitanti del borgo nel vedere la propria realtà partecipare ad una competizione in grado di valorizzare non solo Miglionico ma anche le bellezze e le tradizioni lucane più in generale. L'entusiasmo ha fatto nascere spontaneamente anche gruppi di sostegno sui social. Un'occasione di grande vetrina e visibilità per il piccolo comune del Materano che può rappresentare il viatico per l'arrivo di turisti anche nei borghi dell'entroterra. Sono 19 ricordiamo in tutto i borghi italiani che parteciperanno al contest situati ognuno in una regione diversa.